Io con questa interrogazione 5 giorni addietro chiedevo, visto che la legge prevede che un'ambulanza rianimatoria deve essere dotata da un autista soccorritore, un infermiere e un anestesista e visto che mi viene segnalato da diverso tempo che questa funzione di anestesista non è presente a bordo dell'ambulanza rianimatoria, chiedevo un intervento immediato per salvaguardare la salute dei cittadini mazzaresi anche alla luce della mancata apertura dell'ospedale a Beragliello e quindi ci rendiamo conto che Mazzara ha bisogno più di altri di un supporto sanitario di degno rispetto. Accade che ieri sera dei residenti mi hanno segnalato che alle 20.45 è arrivata una segnalazione al 118 per quanto riguarda un parto avvenuto dentro le mure di casa. Questo parto è giustamente di natura molto complicata a livello sanitario, ha portato a far avere dei problemi a livello cardiaco al neonato che è stato trasferito di urgenza a Palermo. Fortunatamente in quella giornata era presente l'anestesista rianimatore a bordo ma che terminava il proprio turno alle 21, quindi 15 minuti prima della chiamata al 118 e quindi a questo punto abbiamo scongiurato un possibile decesso di un bambino per pura fortuna e per puro caso. La domanda sorge spontanea, se non ci fosse stato il medico anestesista a bordo del 118 cosa sarebbe successo? Per questo io oggi vengo in questa emittente televisiva per denunciare quanto accaduto perché è qualcosa di veramente incrocioso al quale bisogna porre fine. Io mi appello al dottor Giovanni Bavetta visto che so che è una persona molto sensibile all'esigenza del territorio affinché venga designato un medico all'interno dell'ambulanza rianimatoria nel 118 di Mazzara del Vallo e che questo non venga spostato saltuariamente da Petrosino a Mazzara del Vallo perché qui ne vale della salute di tutti i cittadini mazzaresi alla luce anche del fabbisogno sanitario che abbiamo in questa città alla luce di una struttura ospedaliera che ancora non è operativa quindi chiedo fortemente che intervenga il sindaco, il dottore Bavetta e mi pongo una domanda, dov'è la deputazione regionale anche di Mazzara del Vallo che dovrebbe vigilare e fare il proprio dovere per far sì che questa situazione di emergenza venga posto al rimedio? Dove si trovano tutti questi soggetti? È qualcosa di veramente impressionante quello che sta accadendo Mazzara del Vallo è una cittadina di circa 60.000 abitanti e visto la questione ospedaliera abbiamo bisogno che l'ambulanza rianimatoria oltre che di autista soccorritore e di infermiere sia dotato di un medico rianimatore per scongiurare tutti quei casi che potrebbero avvenire nei prossimi giorni che potrebbero portare addirittura al decesso di coloro i quali chiedono il supporto del 118 per scongiurare tutti per scongiurare tutti che potrebbero portare e di un'applicazione di coloro i quali chiedono il supporto del film per scongiurare tutti che potrebbero portare